Ciao, sono Nadia Natali e prima di parlare di me volevo innanzitutto ringraziare gli amici di Mondia Press TV per questo invito e per questa meravigliosa iniziativa che sarà e che darà un'opportunità ad artisti stranieri come me di farsi conoscere in Francia. Sono una cantatrice italiana nata e cresciuta nella grande città capitolina, Roma e la musica è la mia vita ed è grazie a lei che io ho scoperto di essere un'artista poliedrica. Mi definisco così perché questa parola riesce non solo a descrivere in breve ciò che sono ma riesco a dare la giusta immagine di me al pubblico che mi segue. Nel mio percorso artistico ho iniziato dalla discografia alla televisione al doppiaggio fino ad arrivare al musical ed è proprio grazie a quest'ultimo che ho scoperto l'amore per il teatro. Il progetto che vi presenterò oggi è uno spettacolo che ho ideato e realizzato insieme al maestro Antonello Vannucchi ed è un omaggio alla tradizione romana e alla sua poesia. La sua particolarità è questo connubio che fonde vari stili musicali alla vecchia tradizione rendendola così non più solo italiano ma una finestra aperta al mondo. Perciò vi lascio con questo piccolo cameo che si intitola la passione romana augurandovi una buona visione e saluto ancora come ringraziamento speciale gli amici di Mondial Press. Grazie. A bientôt. Grazie. 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 Grazie a tutti.